Se ce l'hai inoltre per andare a fondare, cerca di usare il motore del motore. Portando il motore al massimo, io ho i giri che mi servono, facciamo perdere un po' tempo. E poi se mi vedo questa amico mia, magari mi ha pagato. Magari il paio lo vedremo in alcuni di questi qua. No, lui mi ha detto andare. Ah, c'era questa qui l'occasione? Si, è usato, è perfetto. Chi mi ha detto? Per me questa elettromeccanica non è roba per studiare. Non so darti di un'informazione dettagliata. Secondo me è l'inglese in base alla mia faccia YouTube. E dipende da quanto fa fare. Si, poi una volta c'è i miei. 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 A presto. Grazie a tutti.